E' un decalogo fatto di sì, quello che la Conferenza Episcopale d'Abruzzo e Molise ha sottoposto al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nell'incontro di ieri a Chieti, a cui hanno partecipato anche l'Assessore alla Sanità Verì, il Sottosegretario D'Annuntis e il Presidente del Consiglio regionale Sospiri. Il primo punto del decalogo dei Vescovi è il rispetto della dignità della persona, a prescindere dalla nazionalità e dal colore della pelle. Nel solco tracciato da Papa Francesco, dunque, anche in Abruzzo, la comunità ecclesiale rivolge un appello forte alla politica sull'accoglienza dei migranti, chiedendo alla maggioranza di centrodestra un'attenzione più marcata alle fasce più deboli della società. Tra i temi trattati e contenuti nel decalogo della CEAM, anche la ricostruzione post-terremoto e il ruolo della rete sanitaria e socioassistenziale legata al mondo cattolico. I temi principali che abbiamo affrontato sono quelli della ricostruzione post-terremoto, che coinvolge molto del patrimonio artistico, architettonico, tante centinaia di chiese ancora da ricostruire, oltre che un problema più generale che è stato sollecitato anche dai Vescovi sulla ricostruzione morale e psicologica della popolazione colpita da questi eventi, la rete sanitaria e socioassistenziale, nella quale le realtà legate al mondo cattolico, alla chiesa, sono molto presenti e rispetto alle quali noi dobbiamo continuare a migliorare il rapporto di collaborazione e di integrazione di questi servizi per offrire ai nostri cittadini servizi sempre migliori e quindi tutti i temi legati all'attenzione ai più deboli, alle marginalità sociali, su questi temi ci siamo confrontati molto costruttivamente.